Ieri era toccato ad Antonio Viola, ex direttore del cantiere delle paratie di Como. Oggi, invece, i magistrati contabili hanno ascoltato il papà delle paratie, Fulvio Caradonna, ex assessore ai lavori pubblici del comune di Como, l'esponente politico che pagò personalmente lo scandalo del muro sul Lungolago. In seguito a quella vicenda, infatti, Caradonna rassegnò le dimissioni da assessore. Ma il suo nome è legato a doppio filo con il cantiere delle paratie, che partì sotto la sua direzione politica, perciò i magistrati contabili della Corte dei Conti di Milano stamattina l'hanno ascoltato. Sul contenuto dell'audizione, tuttavia, massimo riservo da parte dell'ex assessore, che comprensibilmente ha preferito non raccontare quanto spiegato stamattina ai magistrati, poiché l'indagine è ancora in corso. Indagine che riguarda, in generale, l'enorme crescita dei costi per la realizzazione delle paratie, in particolare nel mirino della Corte dei Conti, sarebbe finito anche l'accordo bonario raggiunto dal comune di Como con l'azienda che ha vinto l'appalto, la Veneta Sakaim. Nelle settimane successive allo scandalo del muro sul Lungolago, l'azienda presentò a Palazzo Cernezzi una lunga serie di rimostranze per gli intoppi tecnici e i ritardi. Al fine di evitare un contenzioso civile, Sakaim e comune di Como decisero di tentare la strada della mediazione. L'esito fu favorevole a Sakaim, riconosciuta creditrice per poco meno di 2,9 milioni di euro. Finora, però, quella somma non è stata ancora liquidata da Palazzo Cernezzi all'azienda, e ora anche quella spesa imprevista è sotto la lente della Corte dei Conti. Su questo e su altri punti caldi del caso Paratie, Antonio Viola è stato sentito per diverse ore nel corso della giornata di ieri. Stamattina, come detto, è toccato all'ex assessore Fulvio Caradonna. Ma il lavoro dei magistrati contabili a Como non finisce qui e dovrebbe continuare anche domani, forse con alcune domande anche ad Antonio Ferro, responsabile del procedimento per il cantiere delle Paratie. Grazie a tutti.